Questo è un video di istruzioni d'uso per l'incredibile trattamento lisciante brasiliano per i capelli Keratin Cure. Cosa rende Keratin Cure il trattamento brasiliano migliore sul mercato? Oltre ai rivoluzionari risultati di ristrutturazione e trattamento lisciante per tutti i tipi di capelli, la particolarità di questa cura è che i capelli possono essere lavati lo stesso giorno del trattamento. I clienti lasceranno il salone più tranquillamente sapendo che i loro risultati rimarranno anche dopo aver lavato i capelli. Il trattamento brasiliano lisciante per i capelli Keratin Cure è duraturo e rende morbidi, forti e lucenti i vostri capelli. Il trattamento Keratin Cure è il risultato di un processo avanzato di alta tecnologia sviluppato da ricercatori della società Beauty Cosmetica, un procedimento altamente sofisticato che consente alla keratina di penetrare nel follicolo dei capelli. Il trattamento brasiliano lisciante Keratin Cure è un trattamento intensivo alle proteine che lascia i capelli estremamente lucidi e ricchi di vitalità. L'immediato effetto lisciante è dato dall'effetto della keratina, il suo effetto balsamo liscia l'effetto crespo e migliora il vostro naturale effetto ondulato. In effetti la keratina è la sostanza più protettiva contenuta nei nostri capelli, nella nostra pelle e nelle unghie. L'effetto del trattamento brasiliano lisciante per i capelli Keratin Cure è generalmente attenuato dopo due o sei mesi a seconda della condizione di porosità dei capelli nel momento della cura. Il trattamento brasiliano lisciante per i capelli alla keratina è eccellente per ogni tipo di capelli, trattati, schiariti, con colpi di sole, tinti o con permanente oppure stirati in precedenza. È eccellente per eliminare ricci, capelli crespi, danneggiati, stressati o sfibrati. Il trattamento brasiliano lisciante per i capelli Keratin Cure non utilizza potenti agenti chimici per aprire e chiudere le cuticole dei capelli per poterli lisciare, ma riveste i capelli. Non danneggia quindi i capelli come fa una normale stiratura. Oltre a riempire le imperfezioni dei capelli, Keratin Cure, il trattamento brasiliano lisciante alla keratina, è un sistema che ridona le proteine perdute, recuperando totalmente i danni e dona la morbidezza, la consistenza, la lucentezza, la corposità tipici di capelli sani e nuovi, come rigenerati. Ora imparerete come ottenere i migliori risultati da questo rivoluzionario e innovativo metodo. Step 1. Prima parte. Lavare i capelli con Keratin Cure KC Clarifying Shampoo, in modo che le punte e le parti sfibrate siano esposte. Per i clienti con capelli mai trattati chimicamente, lasciare lo shampoo sui capelli 5 o 10 minuti, per essere sicuri che il trattamento possa penetrare nei follicoli. Non usare balsamo. Sciacquare attentamente. Asciugare i capelli con un asciugamano. Dividere i capelli in quattro parti. Seconda parte. Asciugare i capelli fino a che saranno completamente asciutti. Mescolare bene il flacone prima dell'uso. Il trattamento brasiliano lisciante Keratin Cure non utilizza prodotti chimici, quindi non dovete preoccuparvi se lo lasciate qualche minuto in più. Parte 3. Per una lunghezza di capelli media alle spalle, preparate 60 ml di trattamento. Dividete i capelli in quattro sezioni. Iniziate l'applicazione di Keratin Cure lasciando un paio di millimetri dalla radice. Evitate il contatto con gli occhi. Applicate il prodotto nello stesso modo in cui applicate la tinta. Distribuite il prodotto con un pennello lungo tutti i capelli. Completate la distribuzione del prodotto a tutta la lunghezza dei capelli e i lati. Assicuratevi che il trattamento sia ugualmente distribuito su tutti i capelli. Parte 4. Asciugare i capelli completamente con il phon, iniziando dalla nuca, poi la parte posteriore, proseguendo con i lati della testa e terminando con la parte frontale, fino a che i capelli saranno completamente asciutti. Parte 5. Il prossimo passo è il processo di lisciatura. Dividete i capelli in quattro sezioni. Assicuratevi di usare un ferro che raggiunga la temperatura di 450 Fahrenheit o 230 gradi per garantire che la keratina penetri perfettamente nei capelli. Passate il ferro su ogni sezione sette volte o fino a quando il vapore scompare o il livello di lucentezza e lisciatura desiderato sarà raggiunto. A questo punto potrete usare le vostre tecniche di styling per completare il processo. I vostri clienti saranno incantati dai risultati. I vostri clienti potranno lavare i capelli in qualsiasi momento dopo il trattamento. Assicuratevi di istruire i vostri clienti a utilizzare i prodotti dopo trattamento Keratin Cure e il balsamo speciale perché non contengono cloruro di sodio che eliminerebbe il trattamento dai capelli. Assicuratevi che i clienti sappiano che il trattamento può rimanere da due a sei mesi se i capelli saranno trattati con i giusti prodotti. Before the Keratin Cure my hair was frizzy, it was dry, it was hard to manage. After using the product my hair was easier to manage. It's now smooth, it's shiny, I curate my fingers through my hair. There was no foul odor. It was very natural. I really enjoyed the whole process. . . . . . . Grazie a tutti